Rischio frane a Calatabbiano e rischio crisi idrica a Messina. Nulla cambierà fino a quando il terreno sul quale poggia la condotta emergenziale non sarà messo in sicurezza. Operazione propedeutica alla realizzazione della nuova condotta in metallo. Nonostante quanto vissuto dai messinesi alla fine del 2015, si continua a perdere tempo. La protezione civile non ha rispettato il suo stesso cronoprogramma che prevedeva gara d'appalto per i lavori entro metà agosto e operai e mezzi meccanici in movimento già dai primi di settembre. Ad arrivare a Calatabbiano sono state invece le piogge intense, tre giorni di maltempo che hanno messo e stanno mettendo a dura prova un terreno fragilissimo. L'acqua continuerà ad arrivare nei rubinetti di migliaia di utenti messinesi solo se il costone non franerà e pensare che la soluzione emergenziale dei tubi neoprene era stata progettata per durare appena tre mesi per evitare di attraversare l'inverno ed invece esattamente quello che accadrà. Grazie Grazie Grazie